e sapere tu chi cazzo sei il killer e grazie al cazzo che sei il killer ma chi sei perché non ti togli sta maschera ah vuoi sapere chi sono facciamo una cosa per sicurezza adesso gli possiamo togliere la maschera ragazzi ma che cacchio è successo è quello che vorrei sapere pure io no io sono basito e non ci posso credere non ci posso credere gaetano sei un bastardo sei un pezzo di merdo me la ma chi era il killer gaetano porca troia gaetano era il killer gaetano ho capito che era gaetano cioè tu mi stai dicendo che il primo killer gaetano gaetano ha ucciso peppa il suo cliente preferito vabbè tanto lo sai che dopo che finì tutto questo risorgono ma stai zitto vabbè ma dobbiamo scoprire chi è il secondo e levati fammi parlare un attimo oh ma dobbiamo scoprire però chi è il secondo killer ci sa un'altra esca mi sa mela arrivederci mela non ci abbiamo più un esca ma là dobbiamo trovare un altro modo oh scusa ma quello lì che c'ha le catane è morto non lo so ah ok vivo perché volevate uccidermi no ci serve un attimo la catana staccati eh vabbè ah grazie mille ma che vuole fare con la catana ma che cazzo ne so ma ha tagliato lo stomaco basta me ne vado via da sta casa oh ma siete efficiente mi hai tagliato il dente ok adesso mettiamo la trappola perfetto adesso ci vuole qualcosa per coprirlo perfetto il killer verrà di là andrà a sbattere contro le scatole e cadrà sul macete ok adesso aspettiamo mela hai trovato un modo per bloccare il killer si ho trovato il modo perfetto ma che so ste scatole ma spostale ste scatole di me bingo ti ho catturato killer di merda ma secondo me c'ho male alla pancia non è lui il killer è impossibile che è lui stavo dicendo impossibile che è lui devo capire immediatamente sto killer chi cazzo è qualcuno ha dello scotch per riattaccarmi ma cosa cacchio si può sapere chi è che mi ha lanciato un coltello aia si può sapere chi mi ha lanciato un coltello ragazzi non per dire ma mi è appena arrivato un coltello addosso aia e comunque aspetta un attimo coltelli qualcuno che gli piace coltelli ho trovato un altro cadavere che è stato ucciso col coltello wow ma che novità sei dove mela l'avevo vista da quella parte ok nientanto me ne vado in un posto sicuro quello lì pure il sospetto per me mela 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 dove stracazzo sei forse in questa stanza e la porta è chiusa mela mela dove cacchio sei ora si che siamo nella merda più totale coglione guarda che sono vivo mela 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 chi è stato chi è stato non ho visto bene ma comunque te lo dico hai gli stessi pantaloni di quello di prima le ginocchiere e gli stivali ma che è il fratello ma che cazzo ne so se è il fratello e ora mela tu che fai e che cazzo devo fare devo aspettare di morire ok comunque ci seguiamo dopo ciao buona morte pure a te ma mi fa serio di morire qua ma vado a morire da un'altra parte ragazzi ho una brutta e una bella notizia da darvi che gioia dici prima la bella anzi facciamo una cosa siccome tutti quanti iniziano con la bella io siccome noi siamo diversi iniziamo con la brutta bravo ok la brutta notizia hanno ammazzato mela e volevo dire no